Il settore viabilità della provincia di Chieti ha disposto per martedì 19 dicembre dalle ore 8.30 alle ore 12.30 la sospensione temporanea della circolazione dei veicoli sul viadotto Ponte Nuovo al chilometro 0 più 806 della strada provinciale 111 al confine tra i comuni di Atessa e Lanciano. Lo rende noto la stessa provincia. La chiusura temporanea al passaggio dei mezzi è disposta con ordinanza 808 del 14 dicembre. Il provvedimento si rende necessario, spiega l'ente, per consentire l'esecuzione di accertamenti tecnici strutturali, ispezioni e prove di carico strutturali nell'ambito dell'attività di progettazione di interventi di messa in sicurezza che riguarderanno il ponte. I lavori di messa in sicurezza del ponte, ritenuto una infrastruttura di importanza strategica per la viabilità del comprensorio, sono stati finanziati con il Decreto Ministeriale 225 del 2021, noto come Decreto Ponti, per un ammontare complessivo di 3.300.000 euro. Durante il tempo di chiusura, circa 4 ore, il traffico sarà deviato sulla viabilità alternativa locale.